Buongiorno a tutti dal tecnico nazionale Nicola Barraco, questo pomeriggio vedremo il nostro giocatore Luca Missuto che lavorerà su un aspetto importante per la stabilizzazione degli arti inferiori, quindi andremo a vedere un esercizio dove Luca proverà a stare poggiato e aggrappato con i piedi al fine di utilizzare al meglio la catena cinetica. A stare aggrappato senza saltare, aggrappi i piedi, poi spingi, aggrappati e aggrappa sotto attraverso questo espediente didattico stiamo provando insieme a Luca durante la settimana nel nostro centro di riuscire a portare gli appoggi per terra perché Luca ha una piccola problematica che essendo parecchio alto tende sempre a stare con i piedi per aria, quindi stiamo cercando di riportarlo con i piedi per terra affinché possa usare al meglio le spinte e possa generare molta più potenza alla palla, molta più precisione e riuscire comunque a far male con il suo dritto. Buona giornata a tutti!